Il calendario della normalità, tappa dopo tappa, ecco la roadmap per uscire da obblighi e restrizioni mentre il virus frena. Già da venerdì spariscono le mascherine all'aperto, tranne in caso di assembramenti, sottolinea l'ordinanza ministeriale. Mascherina sempre in tasca, dunque. Potrebbe fare eccezione anche la regione Campania, dove il governatore De Luca ha annunciato l'obbligo della mascherina all'aperto per tutto febbraio, per cautela. Ancora necessario indossarle al chiuso e sui mezzi di trasporto, una regola che potrebbe decadere con la fine dello stato d'emergenza. Il governo ne sta discutendo. Mentre si prolunga, almeno fino al 15 giugno, il Green Pass. Aumentano le capienze negli impianti sportivi. Tra due weekend potrebbe essere aumentata al 75% la capienza negli stadi, al 50% quella nei palazzetti dello sport e al 100% nei cinema e teatri. Sempre che il governo non decida all'ultimo di anticipare i tempi. Il contagio è in discesa, ma con oscillazioni. L'ultimo bollettino aumenta a circa 100.000 casi in un giorno e 415 decessi. Negli ospedali calano a circa 1.300 i malati gravi e a circa 18.000 i sintomatici ricoverati. L'Agenzia per il farmaco diffonde il nuovo report sui vaccini. Le reazioni avverse sono circa una ogni mille somministrazioni in prima dose, una ogni 50.000 in terza dose. Per l'83% si tratta di reazioni non gravi, come gonfiore alla spalla e per i bambini mal di testa momentaneo. L'AIFA raccomanda in modo deciso la vaccinazione alle donne in gravidanza o in allattamento.